Restyling della segnaletica stradale a Via Grande nelle piazze principali di San Mauro e Matteotti. Si tratta di una segnaletica orizzontale in molte parti ormai sbiadita e che necessitava degli interventi, soprattutto per quel che riguarda le strisce pedonali nei tratti di Via Garibaldi e Via Bellini perché più trafficati. Rifatta anche la segnaletica che delimita le zone dei parcheggi ad orario. Piccola la cifra a disposizione, si tratta di circa 3.000 euro, che ha permesso però di intervenire nelle zone a più alta intensità di traffico. Inoltre sono stati istituiti due sensi unici importanti perché facilitano la circolazione. Con un'ordinanza del sindaco Francesco Leonardi è stato istituito il senso unico nel tratto di Via Verdi tra la Via Francesco Crispi e la Piazza Urna. L'altro è stato istituito nel tratto di Via Gemmellaro tra la Via Sacerdote Andrea Strano e Via Europa.